Radio Radicale, siamo con Stefano Quintarelli per il nostro consueto appuntamento con la settimana informatica. Iniziamo subito e d'obbligo dall'attentato a Donald Trump. Allora, una volta quando uccidevano un presidente degli Stati Uniti restavano tanti misteri. Oggi, grazie alla tecnologia, è impossibile che restino dei misteri. Quindi, volevo chiederti un po' se la tecnologia avrebbe potuto in qualche modo aiutare i servizi di sicurezza a evitare almeno quest'attentato a Trump con un semplice drone a cui forse nessuno ha pensato che avrebbe potuto sorvolare la scena del comizio che è diventata anche la scena del crimine. Tanto un saluto a tutti. Sì, diciamo che tutte queste organizzazioni tendono ad essere molto rigide a seguire dei protocolli, no? E i protocolli è difficile innovarli. Perché? Perché ci sono delle regole, delle procedure, delle regole su come si fanno modificare le procedure. Per cui, effettivamente, oggi ci potrebbero essere degli strumenti che facilitano, ma che domani sicuramente verranno adottati. Come dici giustamente tu, i droni. Devo dire che ho visto le foto del luogo del comizio, era una cosa relativamente piccola e probabilmente non si aspettavano nulla di grave, non avevano avuto avvisaglie. Poi c'è un altro aspetto, forse, che possiamo dire legato alla tecnologia, che sono tutte le fantastorie che sono uscite a partire dall'italiano, che era stato, che è stato, persino, ho visto che persino la televisione messicana ha detto che il responsabile era questo... Questo povero giornalista che non c'entrava assolutamente niente e che è stato perseguitato dagli haters di tutto il mondo. Anzi, manifestiamo la nostra solidarietà al giornalista che poi tra l'altro il suo nome è stato anche storpiato dai media, perché insomma hanno riportato la notizia del fatto che lui fosse il responsabile, diciamo, cambiando il suo nome ed è diventato famoso in tutto il mondo, Marco Violi. Sì, e gli auguriamo anche di vincere tutte le cause per diffamazione che adesso intenterà ai media di mezzo mondo. Glielo auguriamo perché è una lezione a partire da X in poi, perché poi tutte le robe crescono, tutte queste cose crescono su X e su Twitter, anche per l'assenza di qualissiasi forma di controllo e di moderazione di queste sciocchezze, di queste fake, di queste false cose che girano. Ho visto anche un video generato con l'AI di dichiarazioni dell'omicida, quindi dichiarazioni postume, vabbè, ormai con gli strumenti che abbiamo diamo libero sfogo alla fantasia di qualunque imbecille. Ho capito. Quindi possiamo dire che abbiamo visto il lato negativo della tecnologia e della comunicazione in questo attentato? Sì, diciamo la nuova normalità, se vogliamo, è la nuova normalità, dopodiché sarebbe appunto bene pensare a come usarla anche per prevenire queste cose, cosa che non è stata fatta. Vedo che negli Stati Uniti ci sono molte critiche. Io sono rimasto sorpreso quando guardavo il video da tutto il tempo che ci hanno messo per prendere Trump e portarlo all'interno della macchina, dell'automobile blindata. Siamo abituati a vedere le scene dei film dove tutto accade in una frazione di secondo. Beh, per esempio, se noi paragoniamo quello che è successo a Trump con quello che è successo a Reagan nell'81, quando ci fu l'attentato da cui si salvò, lì furono bravissimi quelli delle forze dell'ordine, perché lo protestero, lo fecero rientrare dentro la macchina in due secondi, ma nemmeno in due secondi. Sì, infatti qui penso che ci saranno un sacco di polemiche sul ruolo dei servizi. Va bene, allora volchiamo pagina e ci occupiamo delle vicissitudini di uno degli amici di Trump, Elon Musk, che vedo nel tuo blog, lo chiami con un altro nome, poi ci dirai quale, per parlare dell'indagine della Commissione Europea su X. Che cosa ha combinato? Ma diciamo che è da, credo, sette mesi che la Commissione ha cominciato un'indagine per capire se X sta rispettando il Digital Services Act, che è la norma che ci siamo dati in Europa per le grandi piattaforme, quelle che raggiungono una buona parte dei cittadini europei, centinaia di milioni, molte decine di milioni di persone, e dopo circa sette mesi di indagine hanno visto che ci sono degli aspetti a migliorare. Fai conto che il Digital Services Act dice che le piattaforme devono darsi un codice di condotta su come agiscono, sui contenuti dannosi, e dopodiché devono dare i dati ai ricercatori, agli studiosi, perché facciano degli esami, degli analisi pubbliche, per capire se effettivamente le piattaforme si comportano rispetto alle norme che si sono date. Ora, pare proprio che questo non accada, che Twitter non dia alcun dato ai ricercatori, che non si sia data una policy di intervento ai sensi del Digital Services Act, e quindi la Commissione l'ha richiamato. La Commissione l'ha richiamato e ha detto, cacchio, fatti questo codice di autoregolamentazione, perché i comportamenti che stai adottando sono fuorvianti e perché non c'è accesso ai dati, e non c'è mitigazione dei comportamenti malevoli. E su questa cosa Musk ha risposto dicendo, mi hanno proposto un patto segreto. No, il patto segreto è all'articolo, è al comma 103 e 104 spiegato dei considerando della norma. Cioè se uno va sul sito della Commissione e cerca la norma, paragrafo 103 e paragrafo 104 c'è scritto questo accordo segreto, non c'è nessun accordo segreto, è tutto lì chiaro in evidenza. Adesso come andrà a finire? Andrà a finire che lui fa il paladino di questa roba, nel frattempo ha fatto una grossa donazione a Trump, si ergerà di nuovo a paladino della libertà di espressione, e libertà di espressione dove decide lui che cosa è libertà e che cosa non è libertà, chi è libero e chi non è libero. La Commissione probabilmente gli farà un atto per infrazione delle regole e a questo punto gli combineranno una sanzione, lui farà ricorso e nel frattempo probabilmente Trump diventerà presidente e cominceranno le braccia di ferro negoziali con l'Europa e la sanzione magari verrà diminuita, vedremo chi sarà il prossimo commissario incaricato, perché adesso sicuramente alla direzione concorrenza la Festager non ci sarà più, bisogna capire se alla direzione della Connect, che è quella che si occupa delle materie tecnologiche, se verrà confermato Breton oppure no, comunque vediamo chi sarà e ci sarà un braccio di ferro, sicuramente Trump andrà in suo soccorso e mi aspetto che alla fine la sanzione venga ridimensionata, però decisamente non gli piacciono le regole e quindi non le obbedisce, non gioca secondo le regole. Questo d'altronde in qualche modo lo stiamo vedendo anche negli Stati Uniti con Tesla, Tesla adesso è sotto indagine per frode, per frode in commercio, per danni ai consumatori, sulla storia della guida autonoma che non era, c'è anche la SEC, cioè l'equivalente della CONSOB, per vedere se c'è una frode finanziaria. Se quando non gli piacciono le regole decide quali regole non seguire e non le segue. No, lo chiamo Elmo perché Elmo è un personaggio dei Muppet, al presente Muppet Show, no? Sì, sì, lo guardavo sempre. Guardavo il Muppet Show e Apriti Sesamo, che era una trasmissione parente del Muppet Show. Sì, esatto, tra gli anni 70. Ma anni 70, insomma, io me lo ricordo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Sì, sì, era un personaggio secondario che poi è venuto un po' alla ribalta Elmo e non era caratterizzato da una sagacia particolare, ecco, diciamo così. No, capito. Allora, io mi sposterei a Microsoft perché, insomma, ci sono polemiche per il ruolo che ha il Bronzer Edge, che attraverso il quale potrebbero, se si vogliono scegliere altri Bronzer, si scaricano gli altri, le altre, come si chiamano, un sinonimo di Bronzer. Non lo so qual è, però abbiamo capito di che cosa si tratta. Allora, che cosa rischia Microsoft con questo tipo di azione? No, e che cosa rischia? C'è stata Opera, Opera è un produttore di browser che fa uno dei pochi browser che ci sono alternativi a quegli americani, a quegli americani che vanno per la maggiore, Chrome e via dicendo, e Opera ha fatto un esposto alla commissione, Opera nasce in Norvegia come browser, quindi è un browser europeo, e ha fatto un esposto alla commissione perché dice Edge, che è il browser di Microsoft, incluso con Windows, raggiunge tutte le soglie per essere considerato come dominante alle norme, secondo le regole sulla Digital Markets Act adesso, sulla regola sul mercato digitale, e però non è stato incluso, e invece dovrebbe essere incluso e quindi dovrebbe essere trattato alla stessa stregua di Chrome. e dal mio punto di vista Opera c'ha ragione, quindi, però Opera c'ha ragione nel senso che loro sono un concorrente, sono un concorrente europeo, è vero che Chrome toglie lo spazio a tutti, ma anche Edge toglie spazio a Opera, anche se è uno spazio molto più piccolo, comunque è sempre spazio tolto alla concorrenza. La cosa che ti voglio far notare però è che nelle ultime settimane ci siamo occupati moltissimo di un sacco di temi legati a aperture concorrenziali dal CipNFC al fatto che non si usano, che non si fanno quelle funzioni che causano un lock-in, cioè un blocco dell'utente che non riesce ad uscire dall'offerta fatta da un fornitore, cioè sembra proprio che il Digital Markets Act e il Digital Services Act stanno funzionando, perché ci sono un sacco di interventi a favore della concorrenza, notoriamente io sono a favore della concorrenza come bene in sé. La scuola di Chicago dice che bisogna valutare l'effetto che ha sul consumatore, uno può anche essere monopolista, basta che il consumatore ne tragga un vantaggio, questa è una visione molto economicistica della concorrenza, mentre invece la disciplina della concorrenza nasce come questione politica per limitare il potere di grandi potentati economici, quindi a questo punto di vista io sono più un originalista, la concorrenza dal mio punto di vista è un bene in sé e questo qui dei browser di Opera è l'ennesima dimostrazione che le norme che ha fatto l'Europa sui mercati digitali stanno aprendo spazi di concorrenza. sta succedendo una cosa alla settimana intorno a questi temi, quindi direi che il risultato poi bisognerà vedere ancora presto, bisognerà vedere quando arriveranno le cause, se verranno confermate dalla Corte, insomma il percorso è ancora lungo, però c'è tanto fermento come non ne vedevamo da anni, era tutto un'evoluzione dove chi aveva preso le quote di mercato ormai se le teneva e invece adesso stiamo vedendo fermento, quindi sicuramente questo è positivo. Allora, un altro tema importante che è emerso questa settimana è che ci si sta accorgendo della vulnerabilità di Signal, che era considerato diciamo come uno dei social più sicuri. a dir la verità era stato proprio Elmo uno dei primi a sottolineare che poteva avere delle falle Signal e si sono messi al lavoro per coprirle. Che cosa è successo? Ma no, niente, allora io non sono, ho letto anch'io questi, però appunto ho evitato di di scriverli sul blog e di riportarli, ho letto questi commenti, perché in sostanza il database dei messaggi di Signal è sul pc o sul telefono, è cifrato e la password di cifrattura è memorizzata sul dispositivo. Ora, questo riguarda il tipo di modello di rischio che stiamo valutando, nel senso da che cosa ci protegge la cifratura? La cifratura ci protegge dal fatto che qualcuno nel percorso tra mittente e destinatario intercetti quel messaggio ed eventualmente lo alteri. Da questo ci protegge la cifratura di Signal. Se io prendo il controllo del tuo computer, se anche il database dei messaggi è forse cifrato in modo assolutamente blindato, come peraltro adesso a fronte di queste critiche Signal farà, beh, nel momento in cui io ho preso il controllo del tuo computer posso mettere un keylogger, una roba che mi registra tutti i tasti che schiacci, posso mettere una cosa che mi registra tutto quello che appare sullo schermo. Cioè, non ho necessità di andare a cercare nel database. Cioè, se il terminale è compromesso, è compromesso punto. Quindi, se per avere accesso al database di Signal sul terminale devo compromettere il terminale, se io sono un attaccante, ma che mi frega di andare a compromettere quel database, ho già il controllo del computer, posso fare quello che... o del telefono, posso fare quello che voglio. Quindi, secondo me, è sbagliata l'idea da che cosa ci proteggeva Signal. Signal ci protegge dal fatto che qualcuno possa intercettare i messaggi tramittente destinatario e che possano essere alterati. Questa è la protezione che dava Signal. Non altro. Perché il fatto di dire se uno accede al tuo computer potrebbe avere accesso al database, ma se uno accede al tuo computer ha l'accesso al computer, ha l'accesso a tutto. Quindi non mi entusiasma questa... Sì, è vero, è vero che il database è cifrato con una chiave che sta lì e che le immagini non sono cifrate, eccetera. Ma non è quello il threat model, il modello di attacco, il modello di rischio da cui ci difende Signal. Ci ho detto, se uno vuole il computer sicuro, l'unico computer sicuro, dicevamo, è quello sbriciolato e sotterrato. Qualunque computer è sempre un rischio. Se uno ci tiene, ci sono tanti altri strumenti. Se uno ha questa attenzione spasmodica, ad esempio Matrix, che è un sistema di messaggistica che usiamo in quattro gatti, in quattro gatti c'è una comunità ma è abbastanza ridotta, ciascuno si fa il proprio server, messaggia sul proprio server e tutto cifrato tra ammittente e destinatario e il server è tuo, te lo gestisci tu e nessuno ci vede dentro. Noi in ditta usiamo Matrix con client element o anche qualche altro client perché trattiamo informazioni dove abbiamo anche informazioni dei clienti e non ci va di trattarle su un sistema di messaggistica che potenzialmente possa essere aperto o vulnerabile tipo Telegram, Whatsapp o... perché la gente pensa che siano iperprotetti, no? Perché c'è questa idea della cifratura end to end, di nuovo è un... in tutti i casi c'è sempre qualche spazio di vulnerabilità, sia Signal, che Telegram, che Whatsapp. Se uno è proprio molto molto attento a queste cose si faccia il proprio server. Matrix è carino, è un prodotto molto bello. Allora, questa settimana, in queste settimane si è venuto a sapere di una violazione che ha subito un'importante società telefonica, non solo telefonica, che ha TNT. Che cosa è successo? Che tipo di registri sono stati violati e qual è l'eventuale danno? Drammatico, perché hanno detto che hanno preso tutte... hanno preso presso un fornitore cloud terzo e non hanno detto quale e bisognerebbe capire chi è e qual è il tipo di attacco che è stato usato contro questo fornitore terzo, perché riguarda tutti, naturalmente ci aspettiamo che lo dicano non appena avranno sistemato il problema, sono stati sottratti i dati di quasi tutti gli utenti di AT&T di quasi tutti gli utenti di AT&T regolativi a SMS e CDR, cioè Cold Detail Records, cioè i registri delle chiamate. Questo numero ha chiamato quell'altro. Non sono sottratti i dati personali, i nomi delle persone, eccetera, però il contenuto degli SMS e poi uno dice, vabbè ma gli SMS chi li usa? E gli SMS li usano ad esempio tutti i servizi che fanno l'enrollment di cose, quindi uno può sapere su che servizio abbonato e comunque c'è tanta corrispondenza ancora che tanti fanno con gli SMS e poi tutta la mappa di tutte le chiamate fatte da tutti gli abbonati, da quasi tutti gli abbonati di AT&T che sono tanti e adesso non ricordo esattamente, vorrei guardarlo un attimo ma dovrebbe essere qualcosa tipo 200 milioni di abbonati, una roba così cioè l'ordine di grandezza, eccolo qua, 241 milioni di abbonati è un problema enorme, è un problema enorme e sarebbe proprio importante capire chi è il cloud provider e cosa è stato fatto per violare questo provider, questo cloud provider e rubare queste informazioni cioè tutti i messaggi che... non oso pensare a tutto quello che può accadere dai ricatti a... cioè... è veramente un grandissimo problema forse uno dei più grossi data leak che ci sono stati negli Stati Uniti ho capito è mai successo in Italia che tu ricordi? no, una cosa di questo livello, di questo genere no cioè la cosa che ci è andata più vicina sono i dati sanitari di quella società di analisi sanitarie è un modello simile però la scala è... diversi ordini di grandezza, è piccolo allora prima tu avevi accennato alla questione della guida autonoma ci ritorno perché ho visto che tu nel tuo blog nella sezione delle news hai polemizzato con gli avvocati che cercano di difendere l'auto, diciamo, l'auto elettrica la guida autonoma allora si stanno un po' arrampicando sugli specchi per giustificare tutto quello che sta succedendo gli incidenti, le polemiche che riguardano l'auto elettrica allora che cosa hai puntualizzato nel tuo blog? no, la cosa che ho puntualizzato è che gli avvocati di Tesla adesso nella causa appunto per le dichiarazioni fraudolente fatte fuorvianti, diciamo veramente stanno a usare dei sofismi non so come altro definirli cioè il full self-driving dice che la macchina guida da sola self-drive ma non è autonomous cioè la macchina guida da sola ma questo non vuol dire che sia autonoma perché se fosse autonoma se fosse dichiarazione autonoma allora visto che c'è una tassonomia della guida autonoma sarebbe pubblicità ingannevole eccetera cioè stanno a dire che self-driving che si guida da sé non vuol dire che è autonoma dopo aver fatto vedere dei video in cui l'auto andava da casa fino in ufficio finti peraltro perché durante la registrazione di quel video la macchina si era schiantata ed era stato tagliato e rimontato in modo tale da far vedere una roba che non era e adesso stanno a dire che self-driving non vuol dire autonomous è veramente giocare con le parole dal mio punto di vista si guida da sé non vuol dire autonomo allora cos'è autonomo? allora tu sei intervenuto un'altra volta ricordo che l'hai fatto già diverse volte su Chrome in merito alle sue funzioni allora che criticità hai denunciato e soprattutto a che tipo di rischi ci espone Chrome? no non è tanto un rischio quanto un fatto anticompetitivo da parte di Chrome da parte di Google quindi questo è una cosa che è stata scoperta da un ricercatore che si chiama Luca Casonato che è uno sviluppatore italiano e Luca Casonato che credo stia in Olanda adesso non lo ricordo esattamente Luca Casonato si è accorto che all'interno delle funzioni di Google di Chrome il sorgente di Chrome è disponibile è una roba enorme però qualcuno che va a guardarlo c'è ha scoperto che c'è una funzione che dà lo stato di carico della macchina quindi ti dice qual è il livello di carico della macchina se sotto stress oppure no e questa funzione è disponibile solamente se si è sul dominio google.com quindi è una funzione disponibile solo a Google e questo in qualche modo viola il principio di non discriminazione tra il browser che è dominante e i servizi che vengono fatti l'ipotesi che viene fatta è che questa funzione venga usata da YouTube da Google Hangout da servizio di videoconferenza di Google in modo tale da permettergli di funzionare meglio rispetto alla concorrenza e questo di nuovo è un esempio non so se sia stato fatto cioè dicendo adesso freghiamo i concorrenti andiamo a vedere questa cosa qua con spirito proprio anticompetitivo magari è stato fatto dagli ingegneri dai tecnici così con leggerezza dice ma visto che miglioriamo miglioriamo i nostri video andiamo a vedere qual è il livello di carico della macchina mettiamo questa funzione ma potrebbe essere usato da qualche cattivo e allora facciamo che lo usiamo solo noi potrebbe essere stata una cosa di questo genere quindi fatto con leggerezza però il punto è che se sei un'azienda dominante come dominante Google non puoi agire con questa leggerezza penso che sicuramente di nuovo a Bruxelles saranno rimasti molto colpiti e molto interessati su questa notizia un altro caso che hai sottolineato è quello di Apple Pay e il fatto che Apple si tenga per sé la sua tecnologia senza fornirla ad altri in che circostanze in quali casi allora adesso non ricordo esattamente questa cosa qui che cos'era ah no eh sì riguarda riguarda il fatto che l'NFC l'avevamo ne eravamo già toccato avevamo già toccato questo tema l'NFC cioè Near Field Communication quella radio a cortissimo raggio che serve con per l'identificazione radiofrequenza quindi per pagare i biglietti dell'autobus dei tornelli le carte di credito nei negozi eccetera quella comunicazione wireless che facciamo appoggiando il telefonino sul terminale per Apple il controllo di l'accesso a quel chip a quella quella funzione era esclusiva di 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 Apple e sull'iPhone non c'era nessun altro operatore che poteva accedervi su Android invece lo può fare Samsung o possono fare i costruttori dei telefoni diciamo c'era un po' di più di concorrenza ma su Apple era proprio escluso quindi voglio dire la banca Pinco Pallino che voleva se farsi il suo wallet il suo portafoglio di digitale per mettere dentro delle carte di credito non poteva farlo perché non aveva l'accesso alle carte devo dire che su questo io mi mi sono sbagliato nel senso che qualche mese fa ne parlavo con Roberto Viola che è il direttore generale della direzione generale con NECTA a Bruxelles che mi diceva che adesso sarebbero riusciti a far aprire l'accesso all'NFC a questo chip anche ad altri e che questo da parte di Apple e io ero molto scettico dicevo l'Apple secondo me avrebbe fatto dei dei muri ricorsi 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 e avrebbe rimandato la cosa per anni e invece aveva ragione lui questo è abbastanza emblematico che alla fine se vai a litigare con l'Europa le leggi europee le devi rispettare ripensando a 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 un punto importantissimo se pensiamo a al futuro wallet di identità digitale perché i futuri wallet di identità digitale avranno in una tasca le nostre credenziali identità digitale in un'altra tasca i nostri documenti patente eccetera e la firma digitale e in un'altra tasca ancora avranno le carte di credito e gli abbonamenti e queste cose qui e se questo fosse stato disponibile solo ad Apple beh voleva dire impedire in ogni modo l'accesso la possibilità di concorrenza sulla gestione dei portafogli di identità digitale invece aprendo l'NFC beh si apre la possibilità di concorrenza poi bisogna vedere le condizioni perché Apple è maestra in quella che alcuni chiamano la conformità maliziosa malicious compliance cioè che ti dice sì sì io divento conforme alle norme poi in realtà ti ostacolo ricordiamo l'esempio dell'app store che Epic Games voleva fare l'app store e Apple gliel'ha bocciato più volte e sono dovuti tornare in Europa per farsi dire no li devi ammettere quindi il diavolo si nasconde nei dettagli apparentemente la cosa è stata aperta vedremo poi se questa cosa sarà efficacemente stata aperta perché da questo dipende la concorrenza in un sacco di ambiti futuri anche legati a temi di firma digitale identità digitale allora uno degli ultimi temi che volevo trattare in questi in questi quattro minuti e sei secondi che abbiamo a disposizione è quello dell'utilizzo del cellulare in classe a scuola che verrà vietato o è già stato vietato dal ministro dell'istruzione valditare giusto? ma dipende dalla classe dipende dall'età secondo me io ho dato il cellulare alle mie figlie però uno potrebbe dire che erano altri anni perché erano un po' di anni fa e l'ho dato al liceo con l'associazione impara digitale avevamo fatto delle sperimentazioni per usare in modo efficace la tecnologia a scuola quindi di usare il cellulare come strumento a supporto per fare ricerche interazioni così certo che se uno va nelle scuole io vado spesso nelle scuole a fare dei corsi spesso e volentieri adesso ultimamente più da remoto ci sono tante scuole che mi contattano per chiedere di fare dei seminari delle lezioni eccetera io sono sempre molto disponibile in genere faccio su le scuole secondarie a secondo grado gli ultimi anni diciamo gli ultimi anni di liceo però appunto spesso ci vado ogni tanto ci vado e vedo la difficoltà che hanno i professori nel mantenere l'attenzione dei ragazzi laddove possono usare il cellulare indiscriminatamente cioè questi qua stanno tutto il tempo a accertare a giocare anche in classe disobbedendo al professore la cosa non riguarda solo l'Italia e Val di Tara perché c'è stato mi sembra il prestigioso collegio inglese di Eton mi sembra che ha vietato gli smartphone per cui adesso torneranno a usare i vecchi cellulari tipo Nokia dove potevi telefonare e mandare sms se vuoi rimanere in contatto con la famiglia in modo tale da limitare le distrazioni cioè il tema è molto serio non c'è una risposta unica sicuramente una parte della risposta riguarda l'aggiornamento del corpo docente ma altrettanto sicuramente riguarda l'educazione anche a partire dalle famiglie che deve essere dato nell'uso dei cellulari dei propri figli quando vado al ristorante e vedo un bambino di un anno che per tenerlo buono gli danno il ristorante gli danno il cellulare io insomma disapprovo in modo radicale l'ultima cosa l'ultimo tema Goldman Sachs dice che il gigante finanziario dice che la banca dice che l'intelligenza artificiale è stata sopravvalutata molto anzi troppo beh si dice che l'intelligenza artificiale generativa costa molto di più di quanto appare ad implementare e i risultati non sono tutti quelli auspicati anzi per adesso non si vede granché e come dire sono un po' le cose che diciamo da tempo anche noi che viva l'intelligenza artificiale noiosa l'intelligenza artificiale generativa è molto più costosa e prima di produrre degli effetti concreti in alcuni ambiti ci sono ma ci sono tanti problemi di sicurezza privacy integrità verifiche processi conformità con le norme eccetera per cui nel momento in cui la devi applicare alla fine se sei se ottemperi diventa troppo costoso no cioè certo parlo di conformità alle norme non parlo alle AI Act ad esempio questa roba in banca ci sono le norme bancarie è complicato grazie a Stefano Quintarelli per la settimana informatica grazie a tutti